Musica Fammi conoscere, Signore, le Tue vie Fammi conoscere, Signore, le Tue vie Cristo risorto, buona giornata carissimi amici Apriamo le nostre mani, apriamo il nostro cuore Per ascoltare la parola del Signore Che oggi ci parla dal Vangelo secondo Marco Capitolo 4, 1, 20 Cominciò di nuovo ad insegnare lungo il mare Si riunì attorno a lui una folla enorme Tanto che egli, salito su una barca Si mise a sedere stando in mare Mentre tutta la folla era a terra lungo la riva Insegnava loro molte cose, comparabole E diceva loro nel suo insegnamento Ascoltate, ecco, il seminatore uscì a seminare Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada Vennero gli uccelli e la mangiarono Un'altra parte cadde sul terreno sassoso Dove non c'era molta terra E subito germogliò Perché il terreno non era profondo Ma quando spuntò il sole Fu bruciata e non avendo radici seccò Un'altra parte cadde tra i rovi E i rovi crebbero E la soffocarono e non diede frutto Altre parti caddero sul terreno buono E diedero frutto Spuntarono, crebbero E resero il trenta, il sessanta, il cento per uno E diceva Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti Quando poi furono soli Quelli che erano intorno a lui insieme ai dodici Lo interrogavano sulle parabole E gli diceva loro A voi è stato dato il mistero del regno di Dio Per quelli che sono fuori invece Tutto avviene in parabole Affinché guardino sì Ma non vedano Ascoltino sì Ma non comprendano Perché non si convertano E venga loro perdonato E disse loro Non capite questa parabola E come potrete comprendere tutte le parabole Il seminatore semina la parola Quelli lungo la strada Sono coloro nei quali viene seminata la parola Ma quando l'ascoltano subito viene Satana Porta via la parola seminata in loro Quelli seminati sul terreno sassoso Sono coloro che quando ascoltano la parola Subito l'accolgono con gioia Ma non hanno radice in se stessi Sono incostanti E quindi a sopraggiungere di qualche tribolazione O persecuzione A causa della parola Subito vengono meno Altri sono quelli seminati tra i rovi Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola Ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo E la seduzione della ricchezza E tutte le altre passioni Soffocano la parola E questa rimane senza frutto Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono Sono coloro che ascoltano la parola L'accolgano e portano frutto Altri sono ancora quelli seminati sul terreno buono Sono coloro che ascoltano la parola L'accolgono e portano frutto Il trenta Il sessanta Il cento Per uno Amè Cari amici Oggi Gesù Predica il Vangelo La buona notizia E accade che le folle lo circondano E dice che C'erano così tante persone Che Gesù è dovuto salire su una barca E insegnare Ecco che in questo insegnamento Gesù parla E racconta Una delle parabole Che è quella chiave Per comprendere tutte le altre Ma soprattutto Per comprendere l'atteggiamento Che Gesù chiede a ciascuno di noi Quando noi lo ascoltiamo Questo atteggiamento è proprio Questo atteggiamento è proprio di coloro che ricevano la sua parola Come potremmo dire Come potremmo dire i campi Il terreno riceve il seme dal seminatore Perché ha paragonato ciascuno di noi E ciascuno delle persone della folla Le ha paragonate a dei terreni diversi Terreni sassosi Terreni buoni Terreni con delle spine E il Signore ci chiede di essere dei terreni buoni Ovvero in base alla nostra consistenza Alla nostra apertura Alla nostra adesione a Lui Produrremo frutti Quindi già Lui ha dato una spiegazione di tutto questo Non voglio ripetere quello che già Gesù ha detto Ma una cosa è davvero importante fratelli e sorelle Ovvero per essere terreno buono Dobbiamo iniziare ogni giorno la nostra giornata Chiedendo che venga nella nostra vita Che Lui possa intervenire nelle nostre situazioni Nella nostra concretezza Quanto è importante fratelli e sorelle Dire Signore Gesù Sia fatta la Tua volontà Quell'espressione che diciamo sempre nel Padre nostro Ma che a volte non ci pensiamo O non lo mettiamo in pratica Ecco che un terreno buono È un terreno che vuole compiere e realizzare La volontà del Padre Ecco perché quando noi abbiamo un cuore aperto Un cuore che dice Dio Padre Sia fatta la Tua volontà E il Tuo progetto per me Possa essere realizzato Non quello che voglio io Ma quello che vuoi tu Ecco che allora Tutte le parole che noi ascolteremo Che noi leggeremo I Salmi Il Vangelo E qualsiasi altra lettura della Bibbia Questa produrrà frutto Perché ha trovato un terreno buono Un terreno che non è prevenuto Un terreno che non ha dei pregiudizi Nei confronti di Dio E diciamo O Dio ma Tu non mi ami così tanto Dio Tu non sei così buono Tu forse non sei capace di aiutarmi Tu forse non vuoi davvero per me il meglio Il bene Non mi sei vicino Non mi sei accanto E tutte queste riserve Fratelli e sorelle Fanno sì che noi siamo terreni sassosi Terreni pieni di spine Terreni dove questo seme Quando cade Non produce frutto O ne produce molto poco Ecco perché Gesù ha iniziato a raccontare Questa parabola per tutti Ma anche per noi Perché non è vero che basta solo Ascoltare la parola di Dio Ma la dobbiamo ricevere Essendo terreni buoni Perché se noi iniziamo come terreni di spine Terreni sassosi Pieni di preoccupazioni Pieni di tante idee Di tanti pensieri Di tanti scoraggiamenti La parola di Dio non è efficace E quante volte ci può accadere Che la stessa parola Che ascolta una persona Produce frutto Gioia Entusiasmo In altre persone provoca tristezza Pensiamo solo A questo giovane ricco Quando è andato da Gesù Ha detto Ho fatto tutto quello che I comandamenti chiedono E Gesù dice Ti manca una cosa Vendi quello che hai Dallo ai poveri E seguimi E se ne andò triste Perché il suo cuore Era ingatenato Allora vi chiedo Fratelli e sorelle Vi esorto Vi consiglio Di aprire il vostro cuore E lo facciamo insieme Apriamo il nostro cuore Perché sia ogni giorno Ogni mattina Perché dal mattino Dipende poi tutta la giornata Un terreno buono Ma è non pieno di spine Di riserve Di pregiudizi Nei confronti di Dio E della parola sua Vieni Signore Gesù Oggi Con la Tua parola Nelle nostre vite Signore vogliamo deporre Fin dall'inizio di questa giornata Tutte quelle riserve Tutti quei risentimenti Tutti quei pregiudizi Anche nei Tuoi confronti I nostri preconcetti Signore Su tante situazioni Che stiamo vivendo E vogliamo Abbandonarci a Te Alla Tua fedeltà Al Tuo amore Alla Tua misericordia Affinché la parola Che Tu oggi Hai mandato su di noi Possa produrre Grande Grande frutto Signore Io voglio che produca Il cento per cento Di quello che Tu hai detto Per me Per questo Abbandono Davvero i miei pesi Le mie durezze Ti chiedo Spirito Santo Di scendere su di me E che la mia vita Possa produrre Grandi frutti All'ode gloria Del Signore A Te Signore Gesù L'onore e la gloria Nei secoli dei secoli A me Carissimi amici Deponiamo Le resistenze Deponiamo Davvero ogni pensiero Negativo Prima di ascoltare La parola di Dio Solo così Produrrà Grande frutto Per noi Per le nostre famiglie E le nostre case Grazie che mi avete accolto Buona giornata A domani Ciao Fammi conoscere Signore le Tue vie Fammi conoscere Signore le Tue vie Fammi conoscere Signore le Tue vie Insegnami i Tuoi sentieri Guidami nella Tua fedeltà E istruiscimi Perché sei Tu Il Dio della mia salvezza Fammi conoscere Signore le Tue vie Ricordati Signore Della Tua misericordia E del Tuo amor